Ciao a tutti, sto rifacendo questo video anche se in realtà l'avevo già girato tempo fa perché nel frattempo è cambiato qualcosa e ho fatto bene a non pubblicarlo perché sono successo una serie di cose questo sarà un video haul di una collaborazione andata un po' così con il sito Zaful tra l'altro nel frattempo ho visto anche altri video di altri youtubers eccetera e mi sono fatta un'idea ancora più precisa allora mi contatta questo sito e mi chiede la collaborazione guardo il sito e mi sembra un po' diverso dai soliti siti cinesi insomma aveva un sacco di roba, il sito l'ha fatto bene mi ha ispirato, ho detto vabbè perché no tanto mi piace provare cose, anzi in questi casi uno approfitta anche per provare cose che magari non avrebbe comprato da sola e metti che magari nel frattempo ci scopri anche qualcosa per cui valga la pena allora loro mi hanno offerto un budget di 150 dollari ho detto cavolo 150 dollari divento social praticamente del sito no vabbè non esageriamo e quindi mi sono dato un po' la pazza gioia ho preso un po' di cose allora non so da cosa partire no partiamo dal fatto che una volta scelte le cose mi arrivano un email in cui mi chiedono di fare intanto un video in esclusiva e vabbè ci può stare comunque non è una cosa che mi fa impazzire però tutto sommato ci sta mi hanno dato un budget abbastanza consistente quindi va bene la cosa che mi è andata un po' meno bene infatti assolutamente non lo farò era quella di mandare prima della pubblicazione il link a loro col cacchio e quindi io me ne frego assolutamente e pubblico lo stesso il video detto questo mi spediscono l'ordine e una volta arrivato mi accorgo intanto che mancava una cosa anzi in primis mi sono accorta dell'assenza di un prodotto che però mi è stato spedito dopo e vabbè ci stava non ce l'avevano disponibile subito amen ma non mi hanno neanche avvisato me ne sono accorta solo dopo e questo in effetti poi andando a guardare sul sito risultava non spedito l'altra cosa che mancava era una palette una palettina che mi ispirava mi sembrava il duppio di qualcosa anche se non sono riuscita a capire cosa insomma ho detto l'ho infilata in mezzo perché non sapevo più cosa scegliere e ho messo anche quella palette che non è mai arrivata e neanche è menzionata nel sito in ultimo un'altra cosa che mi ha fatto girare un po' le palle è stata questa ovvero io ho ordinato uno zainetto e vi mostrerò la foto di questo zainetto lo metterò qua in mezzo al video e come potete vedere non ha nulla a che vedere con lo zainetto che mi è arrivato e la cosa che mi ha dato più fastidio io ho scritto l'email spiegando tutte queste cose e mi hanno risposto che non è vero che lo zainetto nel sito aveva le decorazioni diciamo che poteva essere carino ma io l'avevo scelto perché aveva quelle borchie perché così non sa assolutamente di niente sarebbe simpatico perché mi piace il fatto che abbia la tasca principale quella più spaziosa dietro così davanti non possono aprirvi nulla è intelligente come sistema comunque questa è la prima cosa che vi faccio vedere che appunto questo zainetto è assolutamente anonimo che con le borche sarebbe stato molto carino ma così non è stato e il prezzo di questo sul sito sta 18 dollari 99 non è economicissimo però vi devo dire la verità se fosse stato con le borche secondo me sarebbe stata una figata soprattutto perché è intelligente proprio il sistema voi vi mettete lo zainetto perché a me i zainetti fanno venire l'ansia perché stanno dietro io non vedo se qualcuno lo apre invece questa ha la tasca all'interno quindi era geniale e questa è la prima poi un'altra cosa che ho preso ho cominciato dalle cose più costose diciamo non mi sono azzarda a prendere tanto abbigliamento perché ho sempre paura delle taglie in questi siti chinesi quando perderò di nuovo una decina di chili allora forse mi azzarderò a prendere qualcos'altro però ho voluto azzardare l'unica cosa che ho voluto azzardare è questo non so come definirlo questa giacca rossa in una specie di panno che non è malvagia l'unica cosa è che mi sta leggermente stretta comunque appena finisco questo video faccio uno spezzone in cui la indosso e ve la infilo in mezzo così la potete vedere indossata se riesco perché ripeto mi sta un pochino stretta di spalle e non solo quindi però questa poteva essere una cosa carina sfiziosa e questa costava la bellezza di 27 dollari 49 un prezzo diciamo tutto sommato adeguato al tipo di prodotto che è mi piace che Google mi avvisa che ha segnato no cacchio Lazio Benevento 1 a 1 mia fidanzata è laziale e poi l'articolo che non mi era arrivato la prima volta mi è arrivato dopo quindi adesso almeno riesco a farvelo vedere è in assoluto il più costoso perché costava acqua non c'è perché è arrivato dopo 38 dollari circa che io non avrei mai speso per questa cosa anche se ho visto che costano un sacco di soldi queste cose ed era un po' che le guardavo nei negozi da Casanova ma non mi ero mai decisa a comprarlo e sto parlando di questo qua questo diffusore di aromi sinceramente non ha un design diciamo particolare che giustifica il prezzo perché ne ho visti di bellissimi che costano sì però magari hanno dei design particolari siccome appunto costano io comunque ho voluto approfittare di questa cosa per comprarlo però ritengo che il prezzo sia esagerato la particolarità e questo sinceramente è una cosa che non ho fatto caso se ce li hanno anche quelli che ho visto da Casanova è il fatto che voi vi scaricate l'applicazione che si chiama come il prodotto quindi è e-diffuser pro è diffuser pro dall'applicazione regolate la luce perché ha diverse colorazioni e un'altra cosa che non mi ricordo ha il timer di spegnimento insomma una serie di cose carine comunque per carità da questo punto di vista è molto sfizioso anche questo dopo vorrei registrare lo spezzone che vi faccio vedere in mezzo così faccio vedere il funzionamento anche se ripeto non lo so se vale soldi che costa poi questa ci sono rimasta un po' male questa è una delle prime cose che ho messo nel carrello perché quando l'ho vista ho detto guarda che carina che sfiziosa ma sono rimasta denusa quando l'ho vista dal vivo perché doveva essere una lampada e in effetti accesa al buio è abbastanza suggestiva so che non mi aspettavo questa cosa diciamo di plastica così costava poco per il prodotto che è perché solo 10 dollari e qualcosa in pratica cos'è è una lampada che tra l'altro ecco forse questa è una finezza funziona con il taccio quindi non ha un tasto semplicemente appoggiate il dito si accende e cambia colore e riflette questa cosa qua anche questa registrerò uno spezzone così potrete vederla ripeto al buio è abbastanza suggestiva vista così al tatto una plasticaccia un po' così ecco e vivo la sincerità no perché veramente questa cosa poi un'altra cosa che sono rimasta male perché alla fine l'ho vista alla fine quando avevo quasi riempito il carrello vedo questa pochette e ho detto no vabbè bellissima la devo assolutamente avere non costava neanche poco adesso vi dico quanto cioè nel senso per essere una cosa da sito cinesi insomma costava 8 dollari e 44 ed era praticamente una pochette con i trucchi stampati allora purtroppo questa è l'unica cosa che non ho con me perché ce l'ho a casa del mio fidanzato ci ho messo dentro i pennelli però vi metterò la foto dal sito e in ogni caso anche se ve l'avessi mostrata dal vivo mi sono resa conto quando ho fatto l'altra volta il video che nel video sembra più bella di quello che è perché in realtà ha una qualità un po' scarsa la stampa non è proprio fatta bene ma in video sembra bellissima e quindi sinceramente me ne sono abbastanza fregata ho detto vabbè io lo faccio lo stesso il video anche se non ce l'ho con me perché ripeto non ha tutta questa gran qualità e allora ripeto francamente non vale 8 dollari e 44 l'unica cosa che tutto sommato mi è piaciuta realmente diciamo che anzi due cose che mi è piaciuta realmente e potrebbe valerla a provare è questo kit che costa 18 dollari e 99 di pennelli con la pochette vi dico la pochette alla fine questa non è male a livello di qualità mi sembra molto meglio di quella lì ed è questa qui e dentro c'erano un sacco di pennelli vediamo non mi ricordo il numero dei pezzi dentro c'erano 12 pennelli dico c'erano perché perché io siccome alcuni li sto usando ce li ho nella pochette a casa del mio fidanzato qua ne ho 3 6 9 10 ne mancano due che sono appunto nell'altra pochette mancano praticamente quello da ombretto e un altro mi sa da sfumatura però questi qua non sono per niente male perché sono mi sembrano montati abbastanza bene e poi ci sono varie forme magari alcuni io non li userò mai perché per esempio questo è abbastanza inutile già ve lo dico tipo questo qua le setole un po' a cazzo di cara è tutta della stessa lunghezza che non servono a niente per sfumare però ecco cioè a parte su 12 forse due sono abbastanza inutili tipo questo eyeliner io non lo userò sicuramente gli altri invece sì quindi questo qua tutto sommato forse è l'unica cosa decente ah in più la pochette all'interno ha anche un taschino extra quindi forse questa è l'unica cosa che vale tutto sommato il valore che ha l'altra cosa che mi è piaciuta e io qui ne ho due perché una l'ho già usata e l'ho buttata anzi due le ho usate di queste le ho buttate se le ho usate un paio di volte poi le ho buttate non sono stata lì neanche a pulirle sinceramente però non mi sono dispiaciute le avete viste nei miei video praticamente sono queste ciglia finte vi metterò tanto i link diretti dei prodotti poi non me ne frega niente che li comprate lì perché le trovate pure su Aliexpress delle ciglia finte così anche a meno vi dico solo il prezzo allora io queste singole le ho pagate un euro un dollaro e trentanone no no scusate non le ho pagate bugia costavano sul sito un dollaro e trentanone un dollaro e settantadue quindi comunque un prezzo onesto ecco non erano per niente male perché l'attaccatura era abbastanza sottile le ciglia erano morbide è un bel effetto quindi sono abbastanza contenta di queste così come sono da un lato contenta di queste ciglia finte di queste cinque paia e queste costavano 3 dollari e 40 perché mi piacciono moltissimo come forma queste sono le ultime che mi avete visto nel video l'unica cosa che mi ha un po' fatto impazzire è che sono incollate troppo alla base quindi quando le staccate io un paio le devo buttare perché nel tentativo di staccarle dalla plastica si sono un po' sminchiate quindi bisogna fare attenzione per staccarle però ripeto per 3 dollari e 40 tutto sommato non mi sono dispiaciute come forma e sono anche belle nere questa cosa non è scontata perché io ho un paio di ciglia di Ardell che mi sembravano nerissime poi le ho messe sugli occhi mi sono resa conto che il mascara era molto più nero delle ciglia e quindi se ciglia finte non sapevano di niente mentre queste sono belle nere questa è una caratteristica che adesso guarderò sempre nelle ciglia perché non ci facevo casa all'inizio e quindi non mi rendevo conto infine l'ultima cosa che ho preso ma non ho ancora usato però ho fatto una prova adesso al volo per capire se si gonfiano o meno sono queste spugnette costavano una cavolata forse vediamo subito 3 dollari e 11 e sono appunto queste spugnette qua marmorizzate perché ne uso tante spugnette tra correttore eccetera probabilmente le userò tipo per blush in crema o illuminanti ne ho bagnate due per curiosità non si gonfiano per niente come potete vedere ma proprio zero quindi vabbò diciamo che l'ho buttata lì per non sapere più cosa mettere ci ho messo queste potevo prendere altre ciglia finte devo dire che quelle non mi sono dispiaciute però ripeto trovate su aliexpress ne trovate quante ne volete l'unica cosa di questi siti in generale ma anche di aliexpress è che se uno fa un video su aliexpress cosa è preso da lei nessuno dice nulla allora se però ti fai mandare le cose dei siti cinesi allora sono la stessa identica cosa il discorso qual è? che lo stesso prodotto magari voi vedete la stessa foto in venditori diversi da uno può avere una resa il prodotto magari alla fine ha una buona qualità mentre preso da un altro venditore trovate una cosa di una qualità completamente diversa quindi a volte avere il link preciso del prodotto serve a quello per non prendere un po' una sola e questo è il motivo per cui personalmente trovo no scusate personalmente trovo abbastanza utile i video su queste cose qua perché magari se uno si vuole pigliare qualcosa almeno hai link diretto però di tutta sta roba qua vi dico pigliatevi la sua e basta con questo concludo qua tra l'altro non mi sono dimenticata di dirvi una cosa la palette mi hanno risposto nell'altra email che me l'avrebbero mandata eventualmente nella prossima collaborazione direi di no ciao ciao